Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto! Il mio nuovo libro, YouTuber Misterioso all'attacco, è nella top classifica di Amazon fra i libri più venduti. Ma per non farci superare, ho bisogno di voi. Per chi ancora non ha il libro, lo può prendere dal link qua sotto in descrizione. Su Amazon e in tutte le librerie d'Italia. Continuate così che siete grandi! Ciao a tutti giocatori di calcio! Come state? Spero tutto bene qui in bella faccia, super carico, super entusiasmatico. Perché oggi siamo qui in un altro fantastico, incredibile video di mini football. Perché i video vi stanno piacendo tantissimo ragazzi, quindi eccoci qua. Allora, nello scorso video avevamo, oltre che vinto, incredibilmente, trovato tantissimi giocatori super. Perché questa è la nostra nuova formazione. Comunque sia, scrivete sempre qua sotto tantissimi commentini per aiutarmi, per dirmi, non so, magari bella faccia, cambia quel giocatore al posto di quell'altro, oppure cambia la formazione. Insomma, tutto quello che più vi pare piace. Come sempre, rimanete fino alla fine del video ragazzi, perché alla fine del video farò una cosa epica. Allora, riscattiamo subito le ricompense, perché avendo sbloccato il pass, abbiamo un sacco di ricompense. Quindi innanzitutto prendiamo i primi pacchetti, i pacchetti base. Vabbè, lo so, non è che troviamo... Oh, insomma. Non è che troviamo poi chissà quante cose belle, però sono gratis e li apriamo, eh. Charles e Abdul, ok, fantastico. Abbiamo inoltre un altro bel pacchettino, pacchetto super questo, monete, Enzo, top, una comune, delle calze comuni e delle calze della Cina. Ok, apriamo un altro pacchetto, no, non ce ne sono. Abbiamo invece questo, un nuovo giocatore leggendario, Prince. Prince, è Prince? Sì, Prince, sì. Prince abbiamo! Leggendario 39! Un attaccante, ragazzi, un attaccante. E quindi mi sa che mi dispiace, ma Tyrone, ti mettiamo in panchina. Lo so, ragazzi, lo so, però ce lo teniamo. Li possiamo vendere, i giocatori? No, non possiamo nemmeno venderli, quindi ce li teniamo, li abbiamo a vita. Quindi, Tyrone, lo so, mi dispiace, però ti mettiamo in panchina. Tu sarai sempre nei nostri cuori. Mettiamo un 39! Prince, mamma mia, che potenza! Che potenza di squadra, ragazzi! Sta diventando sempre più forte la nostra formazione. E poi fatemi sapere qua sotto che squadra usate voi, ovviamente, eh. Ok, ragazzi, siamo pronti. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, se siamo pronti. Allora, vediamo. Andiamo subito in negozio, perché se è poi quello lì, quello lì ci piace, lo vorrei tanto trovare. Allora, vorrei aprire dei pacchetti, però non so quali. Io direi di giocare e li apriamo più tardi. Quindi, gioca. Vediamo. Rigore fortunato. Proviamo a fare sto rigore fortunato, ragazzi, che non mi ricordo nemmeno cos'era, eh. Ok, vai. Tre tiri. No. Possiamo farlo? Ok, fantastico. Non possiamo farlo. Dobbiamo solamente scioppare. E se questo video vi piacerà, magari ci facciamo i rigori fortunati, perché, cioè, tirare i rigori, 3,50 euro, vabbè, dai, uno contro uno. Io direi che con i soldi che abbiamo fatto ci giochiamo nello stadio, se, vabbè, ma qui, ragazzi, c'è quota di iscrizione 5.000. Ma io non ho tutti questi soldi, non sono mica ricco. Ok, iniziamo. Vediamo. Contro chi siamo? Abbiamo 354 di forza. Siamo contro un 337. Siamo contro Cristina. Ok, Italy contro Italy. Ok, il campo è sempre bellissimo, perché guardate che bello questo cerchio. La nostra squadra con Prince in attacco, ragazzi, 39. C'è quello più alto di tutti. Ma ci rendiamo conto? Ok, si chiama Cristina, ma è il Canada. Ok, Cristina del Canada. Ciao, sono Cristina del Canada, eh. Ok, vogliamo vedere subito Prince. Prince, vogliamo vederti in azione. Attenzione. Uè, 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 bello. Uo, uo, uo. Paratona. Ah, grandissima paratona del portiere. Ok, ci siamo, siamo in gioco. Dove è Prince? Dove è Prince? Prince, Prince. Fatti vedere. Oh, ragazzi, però sveglia, eh. Sveglia, raga, raga. Oh, ok. No, 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 no. Va bene, va bene, va bene. Portiere qui non è stato dei migliori il mio, eh. Jürgen. Jürgen ha fatto, ha fatto gol. Papera, però, eh. Dai, Prince. Fatti vedere, Prince. Eh, che cavolo, non riesco mai a passarglila. Hanno paura che la passo a Prince. Perché sanno che è un giocatore fortissimo. Ok, Prince, smarcati, bravo. Sì, Prince. Uuuuh, intercettato, attenzione, Mario. Mario niente, Mario niente. Attenzione, Prince. Prince si prova. Ma, mamma mia, che sberla di Prince. Ed è proprio lui. Ed è proprio Prince, con la sua cresta gialla. Prince, nuovo bomber. Tyrone è andato in vacanza. Adesso tornerà. Doveva andare alla Hawaii perché era un po' stanco. Dopo tutte le partite che ha giocato, tutti quei gol. Attenzione. Sadio! Paperona del portiere. Eh, Cristina, è meglio che ti ritiri, eh. Perché stiamo già vincendo alla grande. Adesso alla grande, no. Due a uno. Quindi mai dire, ma... Prince, sei un falegname, eh. Quasi ti danno già il cartellino, eh. Uh, attenzione che ha l'aria di rigore, lì, eh. Non vorremmo mica farci fare un cartellino rosso e un rigore, eh. Ok, oh, raga. Tranqui, tranqui. The best. The best. Calmo. Oh! Che falli, mamma mia. Cioè, ma non fischiano mai a lui. Vai lungo? Bravo? Bravo? Sì? Prince? Prince! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol di Prince! Tanta roba, tanta roba, tanta roba, ragazzi. Ok, 3 a 1. Siamo 3 a 1. Dai, raga. Dai, forza. Dai, Prince. Oh, svegliatevi. Ma cosa fa questo? La melina? Dai. Sì? Ok, top. Fine primo tempo. Possesso palla addirittura più Cristina. Passaggi più lei? 4 ti rimporta io, 2 lei. È equilibrata comunque, anche se sta 3 a 1. Ok, vamos con le mie nuove maglie. Ma quanto sono belle le mie maglie, ragazzi, da 1 a 10? 40? Ue, 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 cri. No, 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 no. Uuuuh! Che paratona. Ma perché non la prendi con le mani? Se io non riesco a capire perché non la tiene con le mani il portiere. No! Oh, mio Dio! Gessione! Mio Dio! Sadio! Sadio! No! Mamma mia! Sì, sì, Mario. Sì, Mario dalla distanza! Non va. Non va. È inutile Mario che ti arrabbi. Hai sbagliato tu. Io cosa devo dirti? Ok. Vai, pressing. Pressiamo, raga. Pressiamo, pressiamo. Sì. No, 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 no. No, 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 no. No, 1, 1. Cresca 1 che... Sì, ma siete stati a guardarlo Siete stati a guardarlo Dopo è logico che fa gol 3-2 Dai, però, Prince Prince, forza Smarcatevi Smarcatevi, raga, dai Dai, più passaggi, più passaggi Dobbiamo passare, dobbiamo passare Dai, più passaggi, più passaggi Dai, dai Mandiamoli in crisi Mandiamoli in crisi Che non stanno capendo più niente Non stanno capendo più Rimessa laterale per Cristina Comunque era bello quel passaggio È peccato Dai, dai Vai, vai Nel centro Sì Sì, sodio 4-2, ragazzi 4-2 Tanta roba 76esimo siamo Sessione, Prince Prince è svegliato, forse Prince Stavo scherzando Mario Oh, Mario Giallo per Mario Giallo per Mario, ragazzi Eh, Mario è un falegname, comunque Mario è molto falegname Ok Questo tira o la passa? La passa? Sì, Prince Sì, Prince Vai Mamma mia, quanto corre veloce Avete visto? Uè Vai, Mario No, che scivolata inutile che hai fatto No, raga No Piano che questo vuole recuperare C'è Prince Mamma mia, che sberla Il portiere però imbarassante Il portiere di Cree Imbarassante Cioè, guarda che roba, dai Neanche mia nonna una cosa del genere Contatto ottesimo Top 5 a 2 Io direi che possiamo provare a fare un altro torneo, ragazzi Ok, 5 a 2 meritatissimo Tanta roba Più 2000 Oppure possiamo, anzi Continuiamo a fare le partite singole perché si danno i soldi No, Cree, che bello il tuo cagnolino Eh, mi dispiace Dai, mi dispiace tanto Ciao Ragazzi, siamo passati i primi Però finisce fra 4 giorni Dai, dobbiamo cercare di fare più partite possibili Allora, vediamo Ricompense Ne abbiamo altre Vediamo Sì Golden Shot Che è? Rigori fortunati Possiamo tirare un rigore Questo che è? Lucky Shot Rigori fortunati Ok I prossimi Eh, non è che ce ne siano tanti di belli, eh Dei prossimi Potremmo usare le zemme però Costano tanto Costano veramente tanto Allora, rigori fortunati Me li fate fare se ho capito bene O devo shoppare Posso farli? Gratis Ok Allora Così mi esercito Vediamo un po' Così mi dovrei esercitare Vediamo così Vamos Ah Gli ho preso la testa Spiacente, niente Ok Gioca Ok, adesso ho tirato giù quel coso Dovrei riuscirci, eh E non è facile comunque Vamos Così Sì Centro perfetto Mamma mia Centro perfetto, raga Ok Pacchetto super gratis Abdull Luigi Tunisia La maglia della Tunisia E Griffin Calzini rari Vabbè per un rigore incredibile Così potrei darmi anche qualcosa di meglio, eh Tre tiri Due euro e cinquanta Ma mi prendi in giro Ma no Ma no Ok 1v1 Continuiamo a fare l'1v1 ragazzi Perché devo giocare in questo campo C'è premio 10k C'è ragazzi 10k C'è vi immaginate se vinco così tanto? Se vinco questa posso giocare nel nuovo campo Quindi vediamo Uh Siamo contro Guest Neanche il nome si è messo, eh Non ho visto la nazionalità Ma noi siamo pronti Ma cos'è? In costume giocano Ok 354 contro 327 Siamo lì La Francia Ok A Mario Lui A Francesco Ok Non ha tanti giocatori Leggendari 1-2-2-0 Dai, eh Dai ragazzi, dai Dai Giochiamo bene Già malissimo Siamo partiti, eh Ok Smarcati Prince Prince Cavolaccio Ma fatti vedere meglio Mamma mia Oh mio Dio Quanto è difficile Sì? No? Eh raga Qui ho già visto che Pressano molto questi Si Prince Si Prince No Cavolaccio Basta far tutti sti falli Cioè guardate come gioca Pam 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 Gioca velocissimo questo Gioca veramente veloce Ok Pressing Press 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 Via raga Via 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 Prince Via Prince Via Prince Via Prince Cavolaccio Se Se passava Se passava era gol Si Così Vai Prince Occhio Occhio Si Si Sadio Si Sadio Un bel tiro Eh bravo il portiere qua È stato bravo Prince sveglia Sveglia Prince Cavolaccio Si si No Dovevi passarla Let's go Vai Prince Si Mario 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 Portiere bravo qua Eh Si Prince Si Prince Che cavolaccio Ma che pressing Che fanno sti qua Eh Ah Che fallo a Francesco Che gli abbiamo fatto Eh No è rosso Cavolaccio È rosso Volevo dire Zallo a Wolfgang Cavolaccio Raga Raga Occhio eh Meno falegnami Per favore Dai su Tira Tira Dai Passa Forza Che devo andare a fare gol Mamma mia Oh ma che falli No raga No No Francesco C'è Francesco Ha fatto un gol Un tiro Un tiro Un gol Dai raga però Sveglia Oh qui 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 ci si sveglia Oh Mio dio Mario che fallo No rosso ti prego Mamma mia ragazzi Siamo dei falegnami Siamo dei falegnami Veramente Oh Qua è brutta Qua è brutta ragazzi Oh Grandi Sì L'abbiamo presa Smarcatevi Smarcatevi Sì No Vai Vai Sadio Vai Sadio Sì Sadio che non c'è il portiere Sì Sì Dai 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 Forza eh Andiamola a vincere questa Che mi servono i soldi Oh comunque Sono toste ste partite Dai 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 Sì che sei lui Prince Finalmente si è sveglia Svegliato il principe Il principe si è svegliato il principe Top Grande 2-1 2-1 ma non è finita eh Non è finita Attenzione Prince 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 È da solo Prince Il portiere però questa volta dice no No Prince No Questa volta no Ok ci siamo ancora eh Ci siamo No raga The Wolf Prendila bravissimo Occhio Prince Vai Prince Vai Prince Passa Passaggio orribile Orribile Cos'hai combinato Prince Bravissima la difesa qui è stata Sì Mario Sì Mario Ma che è Mario Ma che è Calmi Calme sangue freddo Pigliala No Brutta Vai Mario Vai Mario Sì Sì Mario Sei tutti noi Vai Prince Il principe Il principe ci vuole provare Della distanza Ma la tiene troppo Egoista Egoista è stato il principe No raga No raga No 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 Ha parezzato Mario Ha parezzato Mario Tosta questa raga eh Tosta Tostissima Forza eh Dai Prince sveglia Sveglia Prince che sei il leggendario L'attaccante leggendario Oh 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 Dove va Raga ma sta per finire la partita No calzo d'angolo Calzo d'angolo non ci credo Ma via Uuuu Se faceva gol così Andava a casa Veramente Mamma mia Raga Sveglia Hai calci di rigore Si va No fine partita Fine partita o rigori Chi ha vinto quindi Pareggio I soldi non me li danno Quindi Supplementari No vabbè Non ero mai andato ai supplementari Raga Oh mio dio Ok Quanto durerà Pochissimo Ok Dai sveglia Prince Sì Prince Sì Prince Sì Prince E solo Prince Portiere Non perdona Cavolazzo No Che brutta palla Ok Il primo che segna vince Ma ho letto adesso No vabbè Il primo che segna vince Assurdo Dai raga Dai raga Dai Sì Prince Prince Il principe ci fa volare Abbiamo vinto raga Abbiamo vinto E ancora non abbiamo Abbastanza soldi Per giocare nel nuovo campo Non può giocare ora Ok Sei ritirato Quindi il prossimo campo Sarà epico Quindi vediamo Pasta zonale Ancora niente qua Non possiamo prendere nulla Ma siccome voi siete rimasti Fino adesso Vi faccio come sempre Il vostro super premio Allora innanzitutto Apriamo un pacchettino Vediamo Gemme Oh raro Hadad Poi Comune Comune Pantaloncini del Portogallo Vabbè Normale questo pacchetto E visto che siete rimasti Fin qua Io Ragazzi Ti apro Un bel pacchettino Come promesso Non abbiamo più le gemme Quindi mi raccomando Tanti mi piace E nei prossimi video Riscioppiamo Pacchetto super Pacchetto super Vai Vediamo un pochettino Monete Lì Pavel Pavel ragazzi Questo è vecchio Pavel Nedved Ok Poi comune Calze comuni E basta Ok dai Diciamo che in questi pacchetti Non è che si trova poi Così tanta roba Bisogna prendere La cassa ultra Lì si che si trova tanta roba Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Vi aspetto come sempre Nel prossimo episodio Non mancate E ci vediamo presto Ciao Ciao